E' arrivata la riduzione di pena per Vincenzo Biundo, 55enne di Gela, dai precedenti 11 anni e 2 mesi di reclusione a 7 anni, 2 mesi e 20 giorni. Nessuna diminuzione invece per Rosa Anna Milazzo, di Serra di Falco, a carico della quale rimasta inalterata la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione. La Procura Generale ha chiesto per entrambi la conferma della sentenza precedente di condanna. I due sono stati coinvolti nell'inchiesta dei carabinieri denominata Bad Cargiver, che nel luglio di due anni fa ha permesso di scoprire una casa di riposo lager a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, dalla quale sono scattate 5 misure cautelari. Quindi la prima sezione della Corte d'Appello, presieduta da Giovanni Battista Tona, ha diminuito la condanna nei confronti di Biundo rispetto a quella emanata nel processo di primo grado. L'uomo è stato processato con l'accusa di abbandono di incapaci, esercizio abusivo della professione infermieristica e violenza sessuale aggravata, mentre Milazzo è finita sotto processo per maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione di infermiera. Entrambi erano dipendenti della cooperativa Sociale Azzurra, da cui dipendono le due comunità alloggio dove si sarebbero consumati maltrattamenti. In quel luogo i nove anziani ospiti affetti da disabilità psichiche sarebbero stati bistrattati, malnutriti e picchiati.